è triste vedere che perdi la flemma per due piatti sporchi che devi lavar che storie son queste ricorda che i padri tra sporco e fetore dove va a regnar quando tutto sembrava per sempre perduto qualcuno si alzò col regale ma lì ha il coraggio negli occhi lo sguardo risoluto gli disse ehi perché hai iniziato a cantare in inglese? la versione italiana di Deponia è a rischio sostiene il progetto di adattamento completo della trilogia di Deponia solo col vostro aiuto potremo completare il doppiaggio del terzo episodio fantastico il tanfo nauseabondo del settore 9 oggi non è così male da quando Rufus ha conosciuto Gal tutto è cambiato dobbiamo tornare a Elysium ormai fuggire da Deponia non basta più ecco fatto sfrutterò la mia straordinaria somiglianza con Cletus per intrufolarmi a bordo insieme a Gal vivi l'ultimo episodio dell'epica trilogia The Dalek completamente in italiano e che importa non sappiamo nemmeno dove sia il nostro obiettivo con la partecipazione dei doppiatori dei primi due episodi della saga aiutaci a raggiungere gli obiettivi extra come la traduzione delle canzoni e del commento audio degli autori here we are in front of volevo dire ci troviamo di fronte alla casa di Tony ho promesso a Gal che non l'avrei più lanciato contro delle asce aiutami resisti avventurieri d'Italia è tempo di tornare su Deponia per l'ultima volta addio Deponia versione italiana per l'ultima volta per l'ultima volta per l'ultima volta grazie